Stando attenti al prezzo di listino, stavamo cercando un SUV che fosse moderno, tecnologico e soprattutto attento alla sicurezza. Spoglia e rispoglia il listino del nuovo, non c'è concorrenza che tenga, ci fermiamo sul Citroen C5 Aircross. In tema di sicurezza se ne intende, vanta 20 sistemi in tutto, dal monitoraggio del traffico alla stanchezza del conducente, insomma tutti quegli elementi che possono portare in un lampo alla distrazione. La reattività dei sistemi automatici di assistenza alla guida si attivano in maniera più rapida rispetto ai tempi di reazione di chi è al volante, seppur in stato di allerta. Giocano un ruolo importante la telecamera interna, che unita ad un radar integrato nel paraurti anteriore, monitora in tempo reale tutto quello che avviene innanzi alla vettura, tanto in città quanto a velocità sostenute, tipo in autostrada. Con il Cruise Control adattivo, C5 Aircross regola automaticamente la velocità adattandosi a quella del veicolo che precede, mantenendo anche la distanza di sicurezza impostata dal conducente. Se a questo dispositivo integriamo la funzione Stop & Go, disponibile solo per le versioni con cambio automatico, si integra alla sicurezza la gestione automatica di freni e acceleratore. Il suo carattere high-tech non si ferma qui, sempre nelle versioni con cambio ad 8 marce, si aggiunge il sistema che imposta la posizione dell'auto in carreggiata, e qui è la vettura a gestire la guida, fermo restando che il conducente abbia l'accortezza di mantenere le mani sul volante. Questo sistema si chiama Highway Driver Assist, di serie per la top di gamma Shine, con i benzina PureTech per i diesel Blue HDI e infine anche per la variante ibrida Plug-in. . . . . Grazie.